Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui per i pronostici della 17esima giornata di Serie A giornata che si giocherà tutta sabato, nella giornata di sabato, ovviamente in vari orari e che appunto consentirà a tutti di avere la domenica libera, proprio pre-festiva ricordiamo poi che la Serie A tornerà in campo mercoledì 26, giorno di Santo Stefano tra l'altro con una partita interessante, tra cui appunto Atalanta-Juventus e Napoli-Inter o Inter-Napoli adesso, Inter-Napoli, ecco a San Siro cominciamo dunque con i pronostici su questa giornata, invece che appunto la 17esima e cominciamo con Lazio-Cagliari, la Lazio non vince dal 4 novembre, molto lunga la distanza la striscia di non vittoria della Lazio e credo che col Cagliari potrebbe anche venire fuori la vittoria ma attenzione, il Cagliari è una squadra molto infida, non mi stupirei se finisse con una bella X proprio qua, però il Cagliari ha giocato contro il Napoli, io credo che abbia spremuto tanto l'energia quindi secondo me alla fine la Lazio comunque porterà a casa i tre punti, quindi uno Lazio Empoli-Sandoria, secondo me qua non perdo tanto tempo, metto la Sandoria vincitrice metto il 2 tranquillo alla Sandoria, così come metto il 2 all'Atalanta a Genova contro il Genoa Milan-Fiorentina è credo la partita insieme a Juve Roma meno pronosticabile in Milan è vero che manca mezza squadra, ma è anche vero che quando mi sono mancati diversi giocatori ha sempre dato le prove migliori, quasi Milan quasi meglio quando giocava con mezza squadra fuori che quando giocava con tutti gli effettivi, però la Fiorentina è una buonissima squadra e ha vinto la scorsa partita dopo una serie infinita di paregge sconfitte, credo che verrà fuori una bella partita e io personalmente mi giocherai l'1X, Napoli-Spal ragazzi con tutto il bene che voglio la Spal e sapete che ho mezza squadra della Spal al fantacalcio, credo che Napoli alla fine vincerà senza neanche troppi patemi d'animo, quindi l'1 del Napoli credo che sia assolutamente doveroso Sassuolo-Torino, qua gioco l'1 del Sassuolo over addirittura, perché il Torino dopo il derby come al solito ha consumato l'anima correndo 300 volte quello che potevano correre e alla fine pagheranno questa cosa, quindi l'1 del Sassuolo credo che sia netto potrebbe vincere anche con più di un gol di scarto, quindi 2-0, 3-1 o così Udinese-Frosinone, secondo me questa è una partita da under, una partita 0-0 è una partita che rivederà tra l'altro sulla panchina del Frosinone un altro allenatore dopo l'esonero di Longo e l'affidamento a Baroni, secondo me è uno 0-0 potrebbe essere risolto più probabile Alle 18 va di scena Chievo-Inter al Bentegodi, questa è una partita che l'Inter vede strafavorita però attenzione perché l'Inter è stanca, come stanca la Juve, come sono stanche le squadre che hanno giocato la Champions, come stanca il Napoli e non è proprio lucidissima però credo che alla fine il Chievo sia messo così male che l'Inter vincerà senza neanche troppi problemi Il derby Emiliano sempre alle 18, Parma-Bologna, secondo me vince il Parma il Bologna ha già fatto un esplua martedì pareggiando col Milan credo che qua col Parma perderà e perderà anche abbastanza male E poi alle 20.30 il big match della giornata, Juventus-Roma è una partita molto dura per la Juve ma aperta e questo sicuramente è molto positiva è molto positiva nel senso che il fatto che gioca non è come il Torino che ha cercato di chiudersi la Roma giocando ti consentirà di avere un qualche spazio in più e questo ovviamente servirà tantissimo per una squadra come la Juve che ha bisogno di vincere anche col minimo sforzo perché ha bisogno sicuramente di tirare il fiato dopo un periodo, come abbiamo visto, difficilissimo e comunque dopo, visto che aspetterà una settimana con la partita con la Roma, la trasferta di Bergamo e poi la partita con la Sampdoria insomma in queste tre partite la Juve giocherà in una settimana quindi bisognerà arrivare all'anno nuovo a cercare di fare più punti possibili ripeto, bel gioco in questo momento alla Juve se ne deve fregare il mio pronostico su questa partita comunque resta all'1x perché nei big match la doppia chance la metto quasi sempre e credo che sia quasi impossibile non mettere l'1 a questa Juve perché è talmente superiore all'avversario e che oggettivamente almeno in doppia chance la vittoria della Juve la devi mettere ragazzi chiudo qua questo video vi auguro una buona settimana e arrivederci al prossimo video ciao